ciao e benvenuto in un nuovo video allora oggi come ogni mese andiamo a aprire la blissim box queste del mese di marzo e andiamo a vedere cosa continua l'ho solo tolta dalla scatola iniziale quindi anche per me questa volta mi sono preparata ho il telefono già per il qr che spero ci sia comunque prima di iniziare box italiana della blissim 16 euro e 90 a box con il link qui sotto come sempre 5 euro di sconto sulla prima box abbonamento senza spedizione ed è già tutto incluso nel 16 90 che si può tranquillamente sospendere rinnovare disattivare quello che volete ma io ve la mostro direttamente allora vediamo un po ok ero pronta perché c'è il qr quindi andiamo a scarsionarlo subito ok vedo una box così c'è un po di tutto dei mini size e dei full size mi sembra di vedere alcune cose interessanti altre meno ma noi guardiamo subito partiamo così andiamo con questo che è un mini size air mask di resolution numero 6 siero capillare nutri active madame la presidente è un 30 ml quindi sarà un travel ed infatti viene a un valore di 3 euro ok maschera per i capelli serve sempre poi andiamo avanti questo capa ndr beauty calme kind mist hydrating setting mist ci può interessare è chiuso ma noi andiamo ad aprirlo ok penso che sia un full size a questo punto mentre lo ha non era chiuso molto bene ma ce deve fare una ragione quindi attenzione quando lo aprite perché se togliete la plastica vi lavate ok e intanto questo è un non c'è scritto forse sotto deve essere una quantità da qualche parte non la trovo scusate un attimo che mi asciugo ok allora e dunque vabbè siamo setting spray non ha odore il vaporizzatore abbastanza vaporizzato io voglio capire la quantità che voglio capirla ma non c'è scritta e quindi faccio fatica a capirla va bene andiamo a cercare il valore con l'iqr questo 20 euro dice di essere hydrating setting mist spray fixator de make up ok lo proviamo sicuramente ha forse la quantità era nella plastica si ha tolto vorremmo sapere la quantità è sicuramente un full size però avrei apprezzato sapere la quantità tutta bagnata no ci sono solo gli ingredienti va bene andiamo avanti vediamo cosa c'è qui in uvet body wash gel doccia rose jasmine ok che corina bellina confezione questo è un 75 ml ed è valore di 5 euro in prezzo pieno volevo vedere se riuscivo ad aprirlo ecco sa proprio di rosa interessante 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 intanto qui sono c'è tutto variato se non succedeva qualcosa in un video non era un mio video ok finiamo con le ultime due queste le ho già viste e le ho già provate mi piace ma adesso ve lo dico allora bubble tea idrogel under eye patch sono dei patch per i contornocchi con vitamina E e tè verde ok mi piace perché sono belle belle imbevute quindi io ci ho fatto tranquillamente due utilizzi perché una volta utilizzate le ho rimesse dentro erano ancora belle imbevute quindi le ho fatte due utilizzi e anche qui si vede che sono molto belle imbevute o se no potete non riutilizzare queste ma usarlo come contornocchi cioè è bello è un buon prodotto e ha un valore di 2 euro però è bello bello imbevuto se poi così bello bagnato lo mettete in frigo è anche più fresco ci piace e finiamo con l'ultimo prodotto Eiko Eido Liquid Eyeliner un eyeliner liquido nero full size adesso andiamo a vederlo è un full size quindi 7 euro ah è proprio vediamo il modo di aprire questa confezione eccolo ha la punta cicciotta anche se ne metto molto non si spande quindi potrebbe essere una cosa interessante molto interessante e allora rifacciamo un recap veloce veloce di questa box abbiamo sì non si sta spandendo l'eyeliner di Eiko che è un eyeliner con la punta abbastanza grossa ecco qui poi dopo abbiamo le idrogelle per gli occhi di Bubble Tea la maschera per i capelli di Madame la Presidente che è un quindi travel solamente la maschera per i capelli ok il gel doccia body wash di Inuvette e poi per finire sì il setting spray ed è di KNDR Beauty sempre in full size allora il valore di questa box è sui 37 euro 37 euro il prezzo è 16 euro e 90 non c'è questa grandessima differenza ma devo dire che tranne la maschera per i capelli che comunque ci si può fare un'applicazione completa tutti gli altri sono in full size quindi anche da provare a questo punto io chiudo tutto fatemi sapere voi che cosa ne pensate se vi è piaciuta quali prodotti vi è piaciute di più e come sempre spero di essere utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao